eccoci di nuovo insieme buon lunedì come procede il lavoro della nostra scheda spero bene perché è davvero utile quest'ultimo video dedicato al primo episodio della nostra serie domenica e lo vorrei dedicare agli operatori della salute mentale perché perché in effetti in molti mi hanno chiesto e mi hanno scritto su quanto abbiano trovato non so quanto meno freddo distaccato l'atteggiamento di un medico rispetto all'atteggiamento dell'altra dottoressa che aveva accolto in ps daniele in soccorso daniele dove invece me la descrivevano come più accogliente anche gli infermieri hanno un atteggiamento differente e allora condivido con voi quelle che sono le mie riflessioni stiamo parlando di operatori della salute mentale quindi operatori che sono esposti quotidianamente alle storie delle nostre vite a storie molto complesse noi abbiamo approfondito quella di daniele ma ovviamente avrete visto il primo episodio ci sono le storie altrettanto complicate delle altre persone ricoverate sono persone che lavorano e che lavorano spesso inserite in contesti dove lo stigma che accompagna e in maniera strisciante coinvolge la società daniele ad un certo punto della serie quando è a letto e ricorda e dice ma cosa stanno facendo i miei amici adesso ah sì gli racconterò che ho avuto una settimana di ferie una settimana di malattia che sono andato via cerca qualsiasi soluzione socialmente plausibile che possa raccontare il suo ricovero in psichiatria perché non è non è una comunicazione che è così semplice poter dare a chi ci è vicino no ma ma questo dipende anche dal fatto di come noi in primis viviamo l'essere stati ricoverati no perché non ci sarebbe volendo neanche la necessità di raccontare immediatamente sono andato in o sono stato ricoverato in ospedale psichiatrico ma raccontare la sofferenza ho trovato un luogo dove è stata accolta la mia sofferenza dove ho trovato delle cure però non troviamo solo pastiglie in un reparto troviamo relazioni e quindi probabilmente il regista ha voluto sottolineare quanto pesino in particolare su questi su questi operatori disagi che riguardano l'ambiente il reparto con le finestre che non si ha alcune non si aprono altre non dovrebbero aprirsi manca il condizionatore la prima puntata è ambientata abbiamo visto a metà agosto e quindi c'è una temperatura a roma elevatissima quindi condizioni anche ambientali lavorative veramente precarie e poi c'è la caratterizzazione anche di questi del personale degli infermieri per esempio no spesso quando noi percepiamo questa eccessiva questo eccessivo distacco dal cliente quindi dalla persona che ho davanti che deve ricevere le mie cure spesso è un segnale di burnout è un segnale di affaticamento no rispetto al lavoro professionale e i professionisti della relazione d'aiuto sono i professionisti che più di ogni altro quindi sanitari ma non solo vigili del fuoco volontari sono le persone che vanno più incontro sono più a rischio per sviluppare questa sindrome che porta con sé appunto distacco emotivo insonnia irritabilità disturbi del comportamento alimentare utilizzo di aumento del fumo di sigarette aumento dell'uso di sostanze per dormire quindi ci sono dei segnali veramente importanti che ci fanno dire che dobbiamo prenderci cura delle persone che curano perché loro sono lì alla devono e dovrebbero essere al servizio della persona che ha bisogno di un loro supporto e non possono quindi essere loro se in condizione di burnout quelle menti compagne che aiutano a superare esperienze di vita così significative così pregnanti e così importanti come quelle che sono accadute a Daniele nella sua vita attuale così ben descritte da registra in questo episodio domenica quindi attenzione e sviluppiamo anche un occhio comprensivo rispetto ai professionisti della salute mentale perché anche loro sono inseriti in contesti non sempre semplici che riguardano anche il loro operato e quindi portiamoci a casa oggi queste riflessioni di quanto sia utile e necessario che anche noi ognuno di noi nel suo piccolo si faccia portavoce del superamento dello stigma che ancora oggi a Tanalia ancora oggi colpisce le persone che soffrono di disturbi che afferiscono la sfera mentale ma che siano anche un valido aiuto per gli operatori quindi aiutare anche il superamento dello stigma aiuta anche a migliorare le condizioni lavorative di chi si occupa quindi aiutiamo le persone curiamo le persone che curano va bene vi saluto ci vediamo al prossimo video dove inizieremo il percorso invece ci addentreremo nel lunedì vi saluto